Allora, con profondo orgoglio, Guido Crosetto ovviamente non poteva mancare nonostante stia girando per tutta Italia, anche a Cuneo, e il nostro orgoglio nazionale, uomo di questa terra che tutti conosciamo, lo sappiamo anche apprezzare per quanto ha fatto in modo concreto e pragmatico, con buon senso, lungimiranza e tanta visione che anche questa sera metterà a disposizione di chi verrà ad ascoltarlo. Io credo che la squadra che Guido Crosetto con Giorgia Meloni e tutto il gruppo è stata determinata anche sul nostro territorio, ha premiato quello che è il merito, quello di cui Giorgia Meloni continua a parlare nell'esercizio di ogni rappresentanza istituzionale e non, affinché possano esserci persone che abbiano a cuore un territorio, che per esso si sappiano battere, soprattutto partendo da quelle che sono le fragilità e i bisogni di una terra. Io quindi non vedo che arrivi per ascoltarlo anch'io e poi sono questi gli ultimi giorni per una svolta veramente epocale che potrà portare al governo una squadra coesa, compatta, con una visione comune per affrontare quelle che sono delle emergenze insolite e straordinarie che deve per forza affrontare la nostra nazione, ma in modo lucido, equilibrato e soprattutto guardando anche a una crescita che non può mancare perché siamo davvero in difficoltà. Rischiamo chiusure dal panettiere alla grossa azienda che producono purtroppo ormai senza un profitto, ma così come anche tutta la zootecnia che rischiano il fallimento perché stanno producendo e gli stanno contribuendo a quello che è il loro prodotto della terra, ancora meno dell'anno scorso e questo è davvero inaccettabile. Quindi pochi giorni, svolta epocale, al governo potremo avere una donna presidente del Consiglio con una visione, determinazione e capacità che sapranno far sì che questa Italia possa risollevarsi da quelle che sono le sue difficoltà, ma soprattutto farla crescere, risollevare, liberare energie.